Ben Tennyson, benvenuto nel mio mondo, letteralmente. Kyber, wow, megalomane, eh? Niente affatto, è solo un posticino che ho messo su per collaudare nuove armi, per torturare vecchi nemici, o solo per stare un po' per conto mio. Vedo che hai un nuovo cane da compagnia. O gatto, qualsiasi cosa sia. Un panunciano, è molto raro, e con un'abilità, diciamo pure, davvero unica. E guarda che sorpresa indossa il tuo falso, Trix. Il Nemetrix era sì nato come pallida imitazione dell'Ommitrix, ma... Beh, lo scoprirai molto presto. Prima, un gioco. Aspetta, non dirmelo, fammi indovinare. Tu mi dai la caccia, e se io sopravvivo fino al tramonto, mi lasci andare. Oh no, il gioco continua finché tu non ci riesci più. E a differenza di tutte le altre volte, questa volta non ci sarà nessuno che verrà a salvarti. A salvare me? Ehi, forse non sei molto attento, Kyber. Io sono Ben Tennyson, sono io che salvo gli altri. Così dici tu. D'accordo, giocherò al tuo stupido gioco. Ma prima della fine, ti augurerai che qualcuno venga a salvare te. Non hai alcuna voce in capitolo, signor Tennyson. La caccia inizia... adesso. Fatti sopravvivo. Ah, buona fortuna. Dai la caccia a tutti noi, contemporaneamente. Creatura affascinante, il Panunciani. Originario del pianeta Hathor. Ehi, è il pianeta natale di Idem. Dov'è il predatore naturale degli Splixson? Ehi, quella è la specie di Idem. Dici davvero? Ah, ma guarda un po'. Io e tutte le mie boccacce.